Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video questa è una replica della live che porto solitamente il martedì ore 18 sul canale Viola quindi per chi fosse interessato si stesse chiedendo Luigi ma non fai più live su youtube? No, non faccio più live su youtube, questa è una replica se volete continuare a seguirmi e farmi delle domande passate nel link in descrizione andatevi ad iscrivere al canale Viola in modo tale che continueremo ad interagire insieme con varie domande situazioni di mercato, analisi di progetto e chi più ne ha più ne metta quindi mi raccomando ragazzi ci vediamo direttamente sul canale Viola Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di una nuova live mega inaspettata perché io di giovedì non ho mai fatto live sul canale Twitch ma oggi ho una sorpresa per voi perché qui con me ho Luca Ciao a tutti, ciao Luigi e per chi non lo conoscesse Luca è il community manager per quanto riguarda il settore italiano di The Sandbox e oggi ci spiegherà un pochino come funziona perché anche io sono un po' a secco ho potuto conoscere Luca tramite ovviamente CoinSquare tra l'altro il lampo che avete visto prima non era una luce che stava saltando ma è perché fuori c'è il temporale quindi spero di non saltare durante questa live e stavo dicendo Luca lo potete trovare anche a streamare su CoinSquare il martedì giusto? se non mi ricordo male esatto è martedì sempre alle 18 quindi come in questo orario potete tranquillamente seguirlo anche lì perché ovviamente lì ci sono anche contest si approfondisce sempre di più The Sandbox e abbiamo deciso insieme ovviamente di portare anche qualche altro contenuto perché dobbiamo ringraziare Luca Lanci del te lo spiego perché diciamo che c'era una possibilità quella di approfondire l'Alpha Pass e con questi contenuti cercheremo di farlo quindi Luca ti ho già presentato ti puoi anche ripresentare e poi magari iniziamo con l'introduzione di The Sandbox certo sì vabbè noi live di solito siamo è un po' più un TG diciamo quando siamo su CoinSquare perché ovviamente dopo per scontato che si conosca già ovviamente quello che è The Sandbox le ultime novità io aggiorno sostanzialmente su tutto poi vabbè giochiamo facciamo cose ci divertiamo entriamo nel metaverso eccetera per quanto riguarda invece oggi facciamo una cosa un po' più dettagliata partendo da zero per chi non ne sa nulla di Alpha Season Alpha Pass tutto quello che riguarda l'Alpha partendo da proprio io partirei direttamente dal sito così abbiamo modo già di vedere da sito un po' come funziona come destreggiarci qui condivido lo schermo si dovrebbe vedere ditemi se si vede dimmi se si vede si si diviso ok perfetto allora questa è la pagina principale del sito intanto cos'è The Sandbox per chi non lo sapesse metaversi sicuramente avrete sentito parlare per quanto riguarda Facebook che ha cambiato il nome in meta no? metaverso lo prendiamo ci sono tante definizioni in realtà di metaverso possiamo intenderlo come un mondo virtuale 3D che dà diverse caratteristiche tra le quali ad esempio il fatto di essere interoperabile quindi la possibilità di utilizzare nel nostro caso NFT che sono anche al di fuori The Sandbox all'interno della piattaforma e poi c'è il fattore diciamo di fattore sociale quindi ci si trova ci si incontra ci si diverte tutti insieme il metaverso di The Sandbox non è sempre aperto ma lo apriamo in determinati momenti che sono quelle che vedete qui in Alpha Season nel caso specifico Alpha Season 3 perché è la terza volta che apriamo il metaverso a tutti questo perché non perché ci piace tirarcela e il metaverso avere una cosa esclusiva ma perché il client di gioco e tutta quella che è la piattaforma è ancora in fase Alpha quindi si stanno sviluppando le varie funzionalità però non è un prodotto completo in tutto e per tutto e quindi per testare proprio anche le varie il metaverso i vari server sia la struttura a livello di a livello tecnico di gestione quindi sia il sito piuttosto che i server sia anche a livello di esperienze che poi si possono provare è tutto un test che si fa man mano aprendo sempre di più il metaverso per farvi capire cosa intendo guardiamo la mappa dalla sezione play questa la parte che ci interessa per l'Alpha Season è la sezione play del sito trovate sostanzialmente tutto qui nella sezione in questa sezione questa è la mappa attuale del del metaverso la mappa disponibile in realtà questa è guardando il rapporto sulla mappa principale è soltanto un estate uno di questi questi quadratoni qui che vedete grossi tra l'altro te lo stavo per chiedere perché mi ricordo che quando ci eravamo sentiti ti avevo fatto la stessa domanda e per sicurezza diciamo ti volevo chiedere proprio questa cosa cioè che parte della mappa è dove si sta tenendo questo per non avere dubbi abbiamo anche direttamente la foto qui all'interno della mappa vedete che è questa è la stessa mappa che troviamo in sezione play rapportata su tutta la mappa principale quindi sostanzialmente siamo al centro la land più al centro di tutte e noi siamo qua come vedete questo è solo uno un estate dei tantissimi e la mappa è molto più grande quindi per iniziare si è aperta questa mappa qui e poi pian pianino in futuro si spera non troppo in un futuro non troppo lontano si spera entro fine anno di poter già caricare tutti i nostri giochi sulle land per chi ne ha e rendere il metaverso completamente visitabile a chiunque ci sono degli step che devono essere fatti di cui il team si sta occupando in queste settimane in questi mesi quindi abbiamo avuto anche la rappresentazione nella mappa totale questa è la mappa più dettagliata di tutte le experience più di 90 experience dovrebbero essere 98 per decine e decine di ore di gioco sostanzialmente se volete farle tutte perché per fare 98 experience ci vuole un bel po' di tempo adesso la mappa ha deciso di non ok come vedete qui ci sono diverse dimensioni proprio perché la dimensione corrisponde alla dimensione effettiva quindi questa che è grossa se io ci clicco sopra mi carica e mi dice che sono 4 land quindi in quadrato quindi una 2x2 ognuna di queste poi può essere o di the sandbox piuttosto che di magari un qualche partner warner music atari ledger ce ne sono tantissimi steve a occhi dead mouse eccetera ci sono delle missioni da completare per ogni per ogni land completando le missioni guadagno questi che sono chiamati questi epi sono chiamati etos points e sono sostanzialmente dei punti livello a cosa mi servono questi etos points se passiamo alla sezione reward capiamo questi etos points a cosa ci servono ci servono per scalare i livelli si parte dal livello 1 e si arriva al livello 5 al raggiungimento del massimo livello si sbloccano le varie ricompense ricompense che si possono ottenere in diversi modi il primo modo è con l'alpha pass l'alpha pass sostanzialmente è come avere un ticket un biglietto e avendo l'alpha pass ho la possibilità di vincere fino a 500 send se arrivo al livello 5 come vedete si sbloccano al livello 1 sono 30 send al livello 2 si aggiungono altri 50 eccetera ci sono delle ricompense in più per quest'alpha season dedicate a tutti coloro che hanno le land quelle che vedevamo prima nella mappa sempre in base al livello che si raggiunge per altre ricompense per chi ha gli avatar che poi andiamo vi faccio anche vedere altre ricompense ancora per chi ha gli mft che in realtà queste due cose basta se ho la land prendo sia le ricompense per il land owner sia le ricompense per l'nft collector e stessa cosa vale per gli avatar se ho un avatar prendo le ricompense per gli avatar l'nft e le ricompense per l'nft come faccio a sapere dove compare la land e dove compare gli avatar o dove compare l'nft nella sezione un po' più dopo quella shop dove qui ci sono tre tab ho la sezione tab degli avatar qui vedete diverse collezioni tra i più rinomati Bored Ape a collezioni native che sono nate e state inventate direttamente su The Sandbox come ad esempio i Doggies cioè gli avatar di Snoop Dog piuttosto che People of Crypto piuttosto che quelli di Steve Aoki aggiungo per confermare che quello che state vedendo è la possibilità letteralmente di poter utilizzare la skin di un Bored Ape o delle altre collezioni che poi sono nate all'interno di The Sandbox proprio come vostra rappresentazione vostro avatar tridimensionale all'interno di quella che è poi la realtà dei giochi ok esattamente esattamente voi andando alla sezione play se avete un nft di questi all'interno del vostro wallet adesso Luca ci fa vedere che c'è l'avatar del Bored Ape magari io adesso scappo perché nascondiamo tutto sono multimilionario non lo sa nessuno no vabbè però appena carica vi faccio vedere che io avendo non avendo i più rinnovati i Bored Ape ma avendo mintato gli avatar gli avatar io ho mintato gli Aoki ho mintato i People of Crypto e i Undoggies vi faccio vedere che vendono in wallet e me li fa cambiare in automatico si va nella sezione avatar del profilo il profilo si trova qua in alto in realtà che è da qua profile carica questa parte di sito dove abbiamo la possibilità se non ce l'abbiamo di creare noi un avatar quindi nella sezione crea create posso scegliere tra una serie di avatar già già fatti quindi standard piuttosto che andare a personalizzare le varie parti del corpo oppure qui shop posso comprarli quindi ci sono l'elenco posso prendere i Gutter Dogs piuttosto che prendere vediamone uno i Bored Ape e quindi qua mi fa vedere come sarei se lo comprassi quindi prendiamone una caso che è il primo vediamo come sarebbe questo Bored Ape versione voxel versione 3D avatar ecco adesso mettiamo una Idol ok questo è sostanzialmente avendo questo NFT questo Bored Ape ho anche la possibilità di equipaggiarmelo e andare in giro con effettivamente essendo una scimmia come se fosse una scimmia un Bored Ape ovviamente questo non posso mettermi dice vai su compro il suo pensì se vado nella sezione dei miei avatar invece posso equipaggiare quelli che ho quindi tempo che carica un attimo l'avatar e poi vedere la rappresentazione basta che clicco su save changes e in automatico mi cambia l'avatar all'interno del sito e anche quello che utilizzerò quando entro nel metaverso questi sono quelli di Steve Hawking io anticipo già tutti quanti che avendo la possibilità di giocare con con l'Alpha Pass già ho intenzione di comprarmi qualche skin di Deadmau 100% per chi lo conoscesse io lo conosco e quindi conosco anche Steve Hawking però giusto per fare just chatting sono più amante per quanto riguarda di Deadmau che tra l'altro in ultimo periodo non è molto non so se ha rilasciato qualche album o qualche canzone non ho idea infatti è strano non l'ho mai chissà perché The Sandbox poi ha stretto accordi con con Deadmau è molto interessante ah sì probabilmente diciamo che il tutto è nato da Snoop Dogg poi come al solito quando fa notizia qualcosa che è interessato inizia subito a vedere a sondare il terreno a scoprire cose infatti poi subito dopo Snoop Dogg c'è stato l'annuncio per Deadmau c'è stato l'annuncio per Steve Hawking poi è entrata Warner Music quindi vabbè anche lì c'è tutta una serie di paniere di artisti che poi hanno a cui si avrà accesso a cui Warner Music ha accesso quindi ad esempio hanno fatto con Sueco la prima experience ma non la vedo che ci sarà altre experience dedicate magari in futuro sempre per artisti Warner Music che fanno parte del gruppo visto che ti piace Deadmau allora ti consiglio di provare Deadmau sia questa questa mappa qui in realtà ne ha due l'altra l'hanno rilasciata da poco no non è vero ah no era quella di Steve Hawking c'è questa di Deadmau dove il bello di questa experience sia quella di Deadmau piuttosto che Steve Hawking eccetera è proprio la musica che hanno al loro interno perché non solo ovviamente essendo artisti musicali non solo viene creata l'experience ma possono vengono anche utilizzate delle canzoni degli artisti direttamente creati da loro non è detto alcuni possono crearle esclusivamente per metterle in quell'experience altri riutilizzano canzoni che sono già conosciute sono già state fatte però è una cosa in più è carino e se a uno piace magari l'artista è un motivo in più per entrare anche per ascoltarsi l'artista stesso mentre si gioca mentre si prova l'experience quindi è un motivo in più ti volevo fare una domanda perché prima stavi parlando di Alphapass e diciamo dei ticket che possono essere poi acquisiti passando diciamo i livelli di esperienza quindi ci confermi che comunque per chi non ha l'Alphapass si può comunque giocare? sì allora chiunque può entrare chiunque può giocare infatti vedete che io qua ce li ho ancora bloccati perché Alphapass non ce l'ho chiunque può entrare tranquillamente può salire di livello salendo di livello vi vengono dati dei ticket più ticket si hanno meglio è perché se non si vince prima e c'è anche modo di vincerlo prima a fine season viene fatta una lotteria lotteria che in cui ogni partecipante ha tot ticket e quindi più ticket ho più in percentuale ho una maggior probabilità di vincere questo Alphapass ricordiamo che ce ne sono un totale di 10.000 quindi non sarà facilissimo ottenere un pass direttamente dalla lotteria è un po' più facile ottenerlo per quanto riguarda la partecipazione ad eventi c'è la sezione eventi dove ci sono degli eventi le daily challenge quindi le sfide giornaliere che sono abbastanza semplici e ti garantiscono ticket extra ticket in più in realtà poi ci sono tutta un'altra serie di challenge settimanali come ad esempio questi stivauki che nel caso specifico dà un nft quindi ti darà è probabile ti dia adesso non lo so dovrei entrare per vederlo però ti dà magari un nft della collezione di stivauki piuttosto che un avatar eccetera ci sono anche questi che danno weekly settimanali che danno gli alfa pass quindi fai x fai y fai questo fai quell'altro pubblicalo su twitter e puoi vincere un alfa pass prendiamo uno a caso ci metto un attimo a caricare poi la pagina ci sono tutti i passaggi da fare la prima cosa ad esempio in questo caso è completare un evento speciale a tempo trovare il fare il mettere lo screenshot su twitter fare lo screenshot ovviamente verificare l'identità e poi alla fine si sblocca se si vince si vince un alfa pass quindi già più di una persona almeno all'interno dei gruppi italiani che seguo l'ha vinto quindi è possibile non è così improbabile e poi ci sono tra l'altro vogliamo dirlo nel senso che ho cercato prima di far partire la live di voler portare comunque un po' di più The Sandbox e quindi creare una delle sessioni dedicate almeno per questa season perché poi ovviamente si concluderà verso verso gli inizi di novembre come vedete mancano 32 giorni 32 giorni esatto e è uscita una bellissima opportunità che vi sto per annunciare anche se siamo in pochi poi tanto questo contenuto verrà repostato su su YouTube e verranno date maggiori informazioni sto per far partire un contest che terminerà verso metà di ottobre dove uno di voi che ovviamente seguirà dovrà seguire delle specifiche istruzioni potrà ottenere l'Alpha Pass ottenere l'Alpha Pass significa poter partecipare ai ai giochi e nel momento in cui verranno ovviamente conclusi questi giochi addirittura raggiungere il premio totale di 500 send quindi non sono non sono spiccioli mi raccomando quindi ragazzi rimanete sintonizzati perché ci saranno dei nuovi contenuti e maggiori informazioni ci saranno ovviamente dei percorsi da seguire ci sono delle limitazioni già ve lo dico in primis questo lavoro verrà fatto solo per chi sarà un abbonato twitch del mio canale quindi l'estrazione verrà fatta esclusivamente tra gli abbonati al canale twitch quindi se non l'avete ancora fatto fatelo perché è una grande opportunità se avete prime non lo pagate neanche tra l'altro mi raccomando se avete amazon prime potete fare l'abbonamento gratuito quindi non vi costa niente paradossalmente se non raggiungiamo almeno 25 abbonati sul canale twitch l'alfa pass non verrà ceduto ed estratto e ovviamente ci sarà solo un vincitore però probabilmente ci potrebbero essere degli altri premi qualora non dovesse essere raggiunto questo obiettivo quindi diciamo che vi lascio con un pochino di ombre con un pochino di interesse perché mi dovete seguire non soltanto il giovedì quando torneremo a portare The Sandbox ma io potrò lasciare delle informazioni anche durante le altre live quindi non potete perdere niente io sono stronzo quindi dovete seguire ve la dovete sudare perché è un gran premio ok niente aperto e chiuso a parentesi puoi continuare Luca tra l'altro parlando di pass non solo avete la possibilità di vincere il pass e vincere 506 ma di solito almeno fino ad ora gli scorsi pass servivano anche per avere più ticket quindi avendo i due pass ho 210 ticket in più per ogni pass che possiedo all'interno del wallet se ho giocato le scorse si sono dei ticket in più se ho partecipato questa è la ha fatto la settimana the belonging week per la settimana del pride e sono dei ticket in più il feedback sono dei ticket in più quindi anche se partecipando agli eventi non si riesce a vincere un pass comunque si possono ottenere altri ticket se si è partecipato e vinto un pass nelle scorse season o se è solo partecipato con queste memorabili che vengono sono stati dati a chiunque avesse raggiunto il livello 5 rispettivamente nella season 2 e nella season 1 quindi c'è possibilità per tutti altre possibilità in più per vincere i pass oltre ai 500 ticket massimi arrivando al livello 5 mettendo i staking i send nella pagina dello stake completando le challenge quindi quelle che avevi fatto vedere prima si può arrivare a un massimo di 350 ticket in più per cui se uno è attivo ha modo di riuscire a vincere un pass anche più facilmente vi ricordo che non ci sono solo eventi di questo tipo eventi che scusate non ci sono solo eventi qui segnati ma di solito può essere che ad esempio alcuni facciano giveaway al di fuori magari i brand stessi come Warner Music eccetera che magari non appaiono qui però se seguite le pagine soprattutto in The Sandbox la pagina Twitter sicuramente avete modo di rimanere ragionati anche su quello è una cosa che in più che conta da considerare perché non c'è solo l'Alpha Pass per vincere i send ma c'è una cosa tutta nuova che è stata introdotta in quest'Alpha Season 3 che è la leaderboard la leaderboard sostanzialmente è una classifica una classifica degli utenti più attivi adesso appena carica ve la faccio vedere in questo caso mostra i primi 200 e poi mostra la posizione in cui in cui si è in questo mio caso specifico sono 5678 la classifica come funziona si contano intanto il numero di Toast Points quindi più i Toast Points ho più punti più missioni ho fatto sostanzialmente più sono una parte alta della classifica a parità di Toast Points si conta il tempo di completamento delle varie quest quindi se io adesso qui apro mi dice per ogni experience che attualmente è stata rilasciata perché le experience non sono tutte disponibili ma vengono rilasciate di giorno in giorno per ognuno mi dice il tempo che ci ho messo ad esempio questa Dame Time ci ho messo 53 minuti e 10 secondi mi dice che sono nel top 100% quindi poche parole ho fatto schifo perché sono fatto tempi molto alti ad esempio in questa sono nel top del 54% in altre in cui mi sono magari impegnato di più nell'Alfa Lobby sono nel top del 24% quindi abbiamo modo di vedere quanto tempo ci abbiamo messo abbiamo modo di analizzare anche quest per quest quanto tempo ci abbiamo messo e in quale migliorare quindi ad esempio nell'Alfa Lobby dove sono andato discretamente bene potrei migliorarmi ad esempio in questo in Person of Interest con il top 51% potrei mettermi lì a rifare la missione e ridurre il tempo e quindi salire in classifica qui abbiamo un modo domanda ti posso cioè possiamo vedere una quest da fare o o no direttamente anche generica dici aprendola direttamente ai client cioè provandolo vedete oh sì va bene può fare magari per far vedere anche un po' come viene visualizzato sì 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 ci vorrà un attimino per far partire il tutto però si può fare no va bene perché mi interessa ci sta ci sta tra l'altro quello una cosa che mi chiedono in molti è la storia della reader board per le quest viene considerato il miglior tempo tra tutte le volte che lo fate quindi non viene preso l'ultimo tempo ma solo il tempo migliore per cui avete modo di rifarlo quante volte volete per migliorarvi prendiamone una a caso prendiamo l'Alfa Lobby prendiamo l'Alfa Lobby tanto prendiamo l'Alfa Lobby perché è la prima dove entrare start here quindi iniziate da qui adesso voi non lo vedete quindi vi devo condividere poi lo schermo appena carica vai intanto mi sta aprendo mi sta aprendo l'Alfa quindi sostanzialmente una volta che sono dentro poi vi faccio vedere ho tutte le varie quest da completare ci sono sono abbastanza semplicemente individuabili perché c'è sempre il punto esclamativo su tutte le figure che hanno la missione per le missioni non ancora completate hanno il punto esclamativo giallo quindi si vede si vede molto bene e si ah ecco l'ultima cosa riguardo i premi che aspetta vi ricondividere il lo schermo così vi faccio vedere direttamente dal sito ok dimmi se si vede aggiungo lo schermo eccolo vai allora per quanto riguarda il la leaderboard la classifica non è solo a fine a se stessa ma in base alla cioè alla posizione in cui si arriva in leaderboard a fine season si ha un premio in send rispettivamente sono il premio per il primo sono 30.000 send se si arriva tra il secondo e il decimo scendono a 5.000 dall'undicesimo al duecentesimo 1.500 dal 201 al 1.750 dal 1.100 al 10.060 send quindi in realtà vi posso assicurare che non mi sono impegnato se uno si mette a fare tranquillamente tutte le quest con calma magari non si spreca neanche troppo a rifarle può tranquillamente essere in top leaderboard considerate che io sono adesso 5.678 non ho ancora fatto tutte le quest che sono uscite escono alle 3 ogni giorno con 15 ore di gioco e sono più di 10 ore di gioco rispetto ai primi anzi anche di più più di 14 ore di gioco 13 ore di gioco quindi le ho fatte con molta calma e un 60 send comunque ve li portate a casa 60 poco meno di 60 dollari che è un extra ulteriore non indifferente questo può essere ovviamente ottenuto sia con alfa pass sia giocando genericamente esatto o serve per forza l'alfa pass no 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 la leaderboard è separata dall'alfa pass quindi posso aver vinto l'alfa pass e essere primo e vincere anche altri 30.000 send posso non aver vinto l'alfa pass e comunque vincere 30.000 send per il primo premio ad esempio il quarto è noto con piacere questo chrismeister è italiano e anche nel nostro server discord e in questo momento è quarto in classifica quindi si ribeccerebbe 5.000 send è italiano e indipendentemente da avere il passo o no comunque 5.000 send riprende se arriva a quarto a fine season per cui ovviamente c'è un dietro un grande lavoro fatto dalle dalle persone perché per arrivare a tempi di questo livello ci si mettono a farle più e più volte per migliorarle c'è tutto uno studio comunque di percorsi diventa quando si inizia ad andare competitivo poi diventa molto più ci vuole molto più tempo ecco molto più time demanding da questo punto di vista però faccio l'esempio mio tranquillamente 5.000 sono metà classifica e riceverei 60 send se arrivassi in questa posizione a fine a fine season quindi tuttora sembra fattibile una cosa che non ho detto prima che vi dico adesso è che da questa season è stata introdotta la verifica dell'account quindi il KYC come è fatto all'exchange questo è stato fatto per diversi motivi prima fra tutti evitare i bot i multi-account soprattutto persone che partecipano con tantissimi account per cercare di vincere avere più probabilità di vincere un pass in questo caso se non si è verificati intanto non si possono riscuotere i premi nella leaderboard il pass non si può vincere e perché tutti i contest durante la sezione eventi vi è richiesta la verifica e in più non potete anche se comprate un alfa pass se non avete l'account verificato non potete riscattare i send vinti a fine season quindi siete bloccati da tutti i punti di vista cosa in più se non siete verificati se avete l'account verificato non potrete neanche comprare una land nella prossima land sale quindi siete incentivati a verificarvi ecco se volete essere attivi e utilizzare al massimo l'alpha season e the sandbox ho tolto un attimo lo schermo per sottolineare ragazzi quanto il concetto del KWC sia importante in queste situazioni io ho avuto la possibilità di partecipare anche alle volte a delle land sales dove purtroppo ci sono i bot ok nel momento in cui provi a essere la persona più veloce del mondo a prendersi la land non ce la fai ok quindi queste procedure di verifica che per molti possono essere ah ma la blockchain dice un'altra cosa privacy e tutto quanto sì sono d'accordo anch'io su questo abbiamo più volte abbiamo più volte toccato questa cosa ma in questo caso è come se noi ci stessimo registrando a un gioco ad una piattaforma quando noi ci registriamo le piattaforme anche lì diamo dei dati e facciamo delle verifiche non vogliamo mostrare dei dati o delle liquidità ci facciamo un bellissimo profilo dedicato Chrome un account nuovo di Ethereum una nuova mail facciamo la verifica lì e limitiamo la verifica dell'identità a quelle liquidità e possiamo tranquillamente giocare e partecipare ripeto con il contest ci sono delle buone opportunità comunque quindi non me ne lascerei comunque scappare sì tra l'altro poi altra cosa che faranno intanto io ti ho condiviso lo schermo eccolo eccolo qua quindi oltre al fatto che cosa che faranno anche per chi compra il land per chi ha le land sarà mettere la verifica anche ad esempio per riscuotere i premi per chi ha le land quindi come landowners ci sono diversi vantaggi tra i quali ad esempio dei drop di send dell'air drop di send periodici di solito una o due volte all'anno e se non si è fatto se non si è laccanto verificato non si potrà riscuotere neanche questo questo vantaggio quindi si è molto limitati ecco adesso che mi state vedendo fare questa è la prima quest che si abilita in automatico bisogna tra l'altro questa che mappa è che grandezza è questa dovrebbe essere due per due quindi quattro land di totali controllo al volo giusto per per essere sicuro no dovrebbe essere quattro perché è una di quelle grosse metà sì è da quattro una due per due abbastanza grossa è sfruttata potrebbe essere sfruttata meglio in altezza però comunque è già abbastanza piena di per sé allora quando sono dentro parte questa missione e vedete come vi dicevo ci sono questi punti escamativi quali viola ti dicono guarda quando iniziano perché ci sono delle missioni che sono attive solo per un determinato periodo di tempo quindi nell'experience che hanno questo tipo di quest in più extra ci sono questi personaggi con il punto escamativo viola che ti dicono guarda se vuoi altre due toast points in più vieni dal 12 ottobre e potrai fare queste missioni extra attive solo per di solito una settimana e guadagnare questi altri due toast points la cosa che è molto è molto utile per chi fa le le missioni generalmente vuole rancare in classifica perché mettete che qualcuno arriva alla fine si è perso e fa anche tutte le quest per arrivare al massimo completare tutte si è perso tutte le quest temporanee e quindi non potrà mai arrivare in testa la leaderboard perché non avrà tutti gli toast points per essere in testa poi magari arriverà sempre tra i 10.000 perché magari le persone che non è l'unico che ha fatto qualche quest ci può stare però ci si preclude una possibilità adesso vedete che io avendole già fatte tutte ho i punti schermativi grigi essenzialmente non si possono rifare ottenere diciamo le experience si possono solo migliorare in tempistica esattamente infatti vedete ci sono i timer sotto che mi dicono per ogni quest il current time e il best time quindi in base ho subito modo di capire se ci sto mettendo di più del dovuto o di meno e quindi nel caso fermarmi e ripeterla da capo ad esempio quella dei la prima sono già oltre il mio best time quindi non avrebbe senso per dire mettermi ancora per migliorare il tempo perché tanto ho già fatto peggio dell'ultima volta ok per muoverci ovviamente i classici WSD sulla tastiera esatto per muoverci esattamente posso usare la rotella per scegliere quanto vicino lontano mettermi posso premendo la T o la ruota delle reaction o comunque dei vari movimenti posso ballare e ci sono vari balli in dance ne fa un po' ne fa un po' lui in automatico cicla tra una serie di balli se premo X mi siedo cosa che hanno aggiunto in questa season prima non ci si poteva sedere e poi c'è la chat quindi in chat io posso scrivere posso parlare con altre persone che sono entrate e sono dentro alla stessa landing in cui sono io oppure tramite la chat metaverse posso scrivere tutte le persone che sono all'interno di the sandbox indipendentemente in che land siano sempre tramite la chat poi posso anche cambiare istanza l'istanza come funziona essenzialmente se io voglio trovarmi con un amico ovviamente il server per evitare che crashi o che sia insostenibile come cosa per il server le persone vengono distribuite in varie istanze della stessa experience quindi io scrivendo slash instances forse non si vede ok vai ci siamo tolti noi ci siamo tolti e adesso si vede quindi ragazzi in basso a sinistra c'è una chat dove noi possiamo mettere slash instances per fare in modo esatto mi dice la popolazione quante persone ci sono in ogni stanza quindi io so che sono nella 78374 e se ad esempio Luigi vuole entrare ed essere sicuro di essere nella mia gli dico e tu inizia a entrare quando sei dentro scrive anche tu slash instances e vedi in quale sei se non sei nella mia c'è un altro comando comodo che è slash join con lo j e poi si mette il numero esatto l'id che c'è dopo quindi se voglio spostarmi ad esempio 78374 adesso non lo faccio perché sono già nella stessa istanza premo invio e in automatico mi ricarica l'experience mi trasporta nel server nell'istanza giusta per far partire la chat cioè per far aprire la chat basta premere il tasto invio che magari chi è abituato su minecraft se non sbaglio era tipo e o t forse sai che non guarda dovrei sapere molto bene perché seguo seguo anche altri un altro metaverso che poi lavorava su molto su minecraft ma in questo momento mi sfugge per l'apertura chat però sì c'era un comando rapido diciamo per aprirla un'altra domanda che ti volevo fare è la possibilità o ci sono delle missioni in cooperativa visto che comunque si può giocare con amici e compagnia in questo momento missioni cooperative non ci sono le vorrebbero introdurre nelle prossime versioni del client quindi quelle che rilasceranno probabilmente ci vorrà un po' perché anche a livello di sia programmazione sia anche a livello di implementazione bisogna fare tutti degli accorgimenti prendere degli accorgimenti nuovi per far sì che quello che muovo io si muova anche per gli altri utenti quindi in questo momento no però in futuro sicuramente arriveranno ci potrebbe essere nulla vieta di trovarsi con le altre persone con i nostri amici e dire ok c'è questa experience nuova facciamo le quest insieme nel senso che le completiamo magari trovandoci su Discord tutti insieme ottimo molto interessante mentre ora visto che abbiamo parlato un po' del gioco abbiamo visto approfondito entriamo un po' in un'altra tematica che ovviamente a me piace tantissimo che è quella un pochino delle land cioè la possibilità comunque di garantirci un piccolo appezzamento che potrebbe da quello che so essere privato pubblico me lo confermi questo? sì nel senso che ovviamente l'appezzamento è sempre visibile sulla mappa posso scegliere io una volta quando potrò caricare l'experience renderla accessibile a tutti oppure a un numero di persone oppure a nessuna o solo a me ok mentre per banalmente ecco vado un po' oltre negli anni perché poi alla fine quello è il discorso verrà permesso anche al personaggio generico comune sulla sua land di poter costruire delle attività ad esempio non solo diciamo dei giochi ma poter vendere ad esempio dei prodotti ci sta già lavorando The Sandbox su questo? certo sì 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 ma appena ci sarà la possibilità di caricare le experience sull'end probabilmente già la cosa inizierà a aver senso e inizierà a essere quasi fin da subito fattibile perché ci sono due cose che sono importanti per quello che dici tu la prima è l'apertura del marketplace a tutti vi ricordo che il marketplace è l'unico quello interno del sito è l'unico modo per poter vendere degli asset su su The Sandbox quindi in questo momento il marketplace è chiuso è aperto solo a una serie a un numero ristretto di persone che fanno parte del fondo creatori che è un fondo dedicato ma in futuro si vuole proprio aprirlo a tutti ci saranno una serie di step da fare tra cui l'introduzione di due nuovi token e altre cose che in teoria dovrebbe avvenire proprio nei prossimi mesi quindi si immagina un'apertura entro fine anno barra inizio dell'anno prossimo e in contemporanea so che stanno sviluppando già l'interfaccia e tutto quello che è necessario per poter creare la propria experience e già iniziare a caricarla sulla propria land quindi la cosa poi le due cose poi si vanno a unire e quindi nulla vieta lo svolgimento e la creazione di attività direttamente all'interno del metaverso ad esempio facciamo un esempio perché poi a livello teorico è sempre più fumosa come cosa se ho uno shop uno store ad esempio mettiamo Nike o Adidas mettiamo Adidas ad esempio sono Adidas voglio creare il mio shop di scarpe posso crearlo nel metaverso mintare le varie scarpe e una volta che anzi in realtà è già possibile fare una volta che io entro all'interno del metaverso posso in automatico visitare lo shop e vedere le varie scarpe NFT che posso comprare quindi avendo un ritorno questa cosa già si può fare questo è un esempio c'è il display messo qui viene messo l'NFT che è quello che poi effettivamente si riceve c'è questa targhetta se premo la E mi fa vedere l'Alpha Pass con una piccola review se clicco view in marketplace mi riporto in automatico sul marketplace del sito di The Sandbox e posso effettivamente acquistare l'asset un'altra possibilità ad esempio quella fatta tramite dei pass quindi ad esempio posso come era nella prima Alpha Season nell'Alpha Season 1 si poteva entrare solo avendo un Alpha Pass quindi qualcosa che poi è cambiata nella Season 2 e anche è rimasta uguale la Season 2 e anche la Season 3 non la vieta che io crei dei pass ad esempio se voglio fare dei concerti piuttosto che fare degli eventi esclusivi vendere i biglietti come se fossero quelli del cinema piuttosto che quelli per un concerto e far pagare le persone e farle entrare rendere l'alenda accessibile solo coloro che hanno questo biglietto NFT mi è venuta in mente un'idea ok che ti comunico perché poi sicuramente è una cosa fattibile potrebbero essere ad esempio nella mia mappa creo dei giochi ok delle mie experience dove posso eventualmente creare una mia leaderboard no su chi magari è più veloce o chi ha raccolto più punti magari ad esempio ricerca ecco raccogli nel minor tempo possibile delle cose che sono sparse nella mappa nell'eventualità si potrebbe addirittura da leaderboard giornalmente andare a distribuire un premio derivante dalla raccolta diciamo delle accessi a pagamento che uno fa la mia mappa è a pagamento si 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 dovresti fare una distribuzione manuale nel senso che adesso non so neanche se ci sia scusate neanche se l'orologio non ha capito no allora penso che almeno in primo istanto sarà da fare una cosa più a livello manuale nel senso che la leaderboard magari adesso non so se verrà implementata fin da subito ci sarà la possibilità di farla dall'inizio però mettiamo a casa che viene implementata poi la distribuzione dovrà essere fatta a mano o nel caso migliore dovresti svilupparti tu uno smart contract o qualcosa che ti mandi che mandi in automatico questi nft ai vincitori però nulla vieta che questa cosa possa essere fatta interoperabilità che poi è la base insomma di quello che abbiamo detto all'inizio non ho già soltanto le skin gli nft che possono essere legati gli accessori è un po' la base di quello che è the sandbox allora ragazzi siamo arrivati a 45 minuti io ringrazio tantissimo Luca che tra l'altro ci ha permesso di vedere anche la season quindi di farvi vedere uno spezzone di mappa ci sono venute delle idee interessanti che se mi rubate mi arrabbio perché le farò io con la mia esatto e vi ricordo non vi scordate di continuare ad essere presenti a dei live e avere potenzialmente la possibilità di vincere un alfa pass perché ricordatevi che se non raggiungiamo i 25 abbonati non andrò a regalare alcun tipo di alfa pass e ovviamente l'estrazione sarà fatta tra i 25 più abbonati che si che si iscriveranno io vi ringrazio ringrazio tantissimo di nuovo Luca che rivedremo non proprio settimana prossima ma lo faremo tornare per magari qualche attornamento esattamente e noi ragazzi ci vediamo settimana prossima con le solide live e probabilmente nuovi approfondimenti per quanto riguarda Sandbox ciao a tutti ciao a tutti